ciao a tutti siamo qui in redazione alla stampa siamo verso la fine dell'anno stiamo facendo bilanci di fine anno e tra i bilanci ci sono anche quelli dei libri e il caso editoriale dell'anno come ben sapete ne scegliamo sempre uno e su quello poi facciamo una video intervista e quest'anno il caso dell'editoriale ce l'abbiamo in casa per cui la video intervista la faremo con con te massimo ciao anna buongiorno a tutti fai bei sogni e in cima a tutte le classifiche i lettori possono finalmente farti domande direttamente tu sei disponibile a rispondere per noi e finalmente è fantastico sai che io una vita che voglio voglio coinvolgerti in cose in cose social sul sito della stampa e questa cosa qui è un senso sia giusto che quest'intervista di fine anno anziché essere fatta tra giornalisti è bello che a fare i giornalisti siano i lettori quindi insomma tutte le curiosità le domande che avete su fai bei sogni quelli che l'hanno letto anche quelli che non hanno letto io risponderò il venerdì prossimo venerdì 28 dicembre ma fin da subito sul sito la stampa punto it trovate tutte le indicazioni per fare le domande io il 28 sarò qua e risponderò a esaurimento a tutti speriamo che non siano troppe cercate di non ripetere perché arriveranno magari sempre le stesse domande ma insomma cercheremo di filtrare e fate avere le migliori se dovessimo non avere il tempo per rispondere a tutte comunque fatevi sotto e massimo gamellini è disponibile a rispondervi fra una settimana buon natale fate bei sogni buon natale